Non si ferma la protesta di residenti e commercianti di Viale Muzzi a Pescara, supportati dalle opposizioni di centrodestra in Consiglio Comunale, che, questa mattina, hanno organizzato un sit-in a ridosso del cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale tanto contestata. Secondo alcuni residenti e commercianti, il progetto elaborato dal Comune, dopo gli incontri avuti con i residenti, è diverso da quello attuale. Questa invece è la proposta avanzata, una pista ciclabile a senso unico che non tolga i parcheggi per i residenti e per il commercio lungo Viale Muzzi. Almeno fare il senso unico e recuperare una carreggiata per parcheggiare. Sarebbe da un lato. Con questo sistema probabilmente si potrebbe gestire la situazione come hanno fatto in Via Regina Margherita. Via Regina Margherita è stato un senso unico, parcheggio a un lato della strada e poi c'è la pista ciclabile che è funzionante.